Ben trovati alla nostra rassegna stampa di oggi, come anticipato siamo allo sport, allo sport del giornale dell'Umbria in apertura il Perugia Calcio. Il grifo ritrova a Calori ma da avversario. Il tecnico Arettino che ha più volte seguito i biancorossi sugli spalti ed era indicato come probabile sostituto di Camplone da ieri è alla guida del Brescia. E alla Ternana Bastrini, sto bene, presto in campo il difensore Popesco ha fatto un bel salto di qualità. Siamo a Gubbio, a casa Mancosu comanda Marcello, l'esterno rosso-blu nel 2015 ha segnato più di tutti in famiglia. Oggi un test su misura per Caesi, il ginocchio dell'attaccante migliore è a Cori, conta di riavere la punta disponibile già nella partitella di oggi. Qui Prato, Rubinio si candida per una maglia da titolare, l'Aquila a marzo, Tour de Force. E per Città di Castello, Superman Massetti, il Castello rimonta e vola ai quarti, Coppa, Biagio, Nazaro, K.O. ai rigori. Alto Tevere, siamo al volley, meno errori con tre, a Polidori mi aspettavo di più dalla sfida con Padova. Sono 30 punti che separano in classifica tre, a terza, a 40 e Alto Tevere penultima con 10. Ancora volley, Champions League, in Mensa Sir, fra le big d'Europa, schiacciato, lo Jastrzewski davanti ai 2600 del Palevangelisti, ora i playoff 6. Questo era lo sport dal giornale, siamo al Corriere, Grifo, calori in panchina ma su quella del Brescia. Il tecnico, dopo aver sperato nel posto di Camplone, sabato sarà avversario, l'uomo che sfilò lo scudetto alla Juventus, conosce a perfezione l'attuale Perugia per averlo visto dal vivo diverse volte. Da Terni, prove tecniche di 4-3-1-2, Viola fuori, Eramo regista, Popescu con Meccariella al centro della difesa, Valiant in mediana. L'alternativa può essere Crecco Mezzala, convocato nella B Italia di Piscedda con lo Slovacco dietro. Gubbio, non c'è regolanti per fortuna, ma Mancosu è in gran forma. L'allenatore del Prato dice, noi abbiamo le nostre armi, Boccalone e Rubino sono forti, ma dobbiamo dimenticare Ascoli. Ciccio Esposito inquadra la sfida di domenica, bravi anche Casiraghi, Iannarilli e Loviso. A Coria, ai tifosi, ora dateci una mano, contro i Toscani ci serve una carica in più, Guerre e Manganelli a rischio. Siamo a Foligno, il giorno della verità, atteso il verdetto del Tribunale, come abbiamo letto dalle pagine del Messaggero. Oggi si decide sulla richiesta di fallimento da parte di Equitalia e di altri creditori. In vista della gara col San Donato Tavernella e Favilla si deve inventare la difesa. Città di Castello, avanti con Super Massetti, il portiere decisivo, parati due rigori. Il Biagio Nazaro si deve arrendere nella serie finale che finisce a oltranza, nei quarti la sfidante è il San Gimignano. Siamo al volley maschile storica, Sir Perugia asfalta lo Jastrzewski e conquista i playoff 6 nel netta vittoria. Al palevangelisti contro i Polacchi, 3-0, staccato il biglietto per l'ultimo ostacolo verso la Final Four. Per il volley a 1, maschile, siamo a Città di Castello, coach Polidori contro Treia. Dobbiamo contenere gli errori, c'è grande attesa per il match di domenica, Sansepolcro alle 18 contro i campioni d'Italia in carica. Solo così possiamo giocare una buona palla a volo, ha spiegato Polidori, e non fare la vittima sacrificale. Sport dalla nazione, l'avversario a Brescia sfida nella sfida, Camplone contro Calori, le rondinelle si affidano al mister che puntava alla panchina bianco-rossa, mentre invece a Terni Popescu si sposta al centro nella prevedibile difesa 4, il rumeno giocherà accanto a Meccariello. Gubbio, il pubblico sarà l'uomo in più, le prossime due gare interne possono dare una decisiva svolta al calmino dei rosso-blu, e per il volley, Sir Safety, un mercoledì da Leoni, conquistato l'accesso ai playoff 6 Champions League, battuti in gran velocità gli avversari dello Jastrzewski. E chiudiamo con lo sport dal messaggero, Camplone può ribattere Calori, il tecnico che non è riuscito a soffiargli, il posto è stato preso dal Brescia e se lo ritrova da avversario, Cacciati, Guida e Javorcic, loro hanno bisogno di punti, noi dobbiamo dare continuità, Fazzi ancora in dubbio. Per il grande volley, Jastrzewski KO 3 a 0, la Sir vola ai playoff di Champions, Atanasevic e From, imprendibili, i polacchi devono arrendersi. Abbiamo già visto sul Foligno, per il fallimento è questione di ore, così il messaggero, il giudice potrebbe decidere oggi scegliendo il curatore fallimentare. E per le fere sono pronte al decollo, contro Latina, Dentella e Rosso Verdi avranno l'occasione di fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa di oggi, vi ricordo il nostro sito www.trgmedia.it dal quale potrete a breve riascoltare questa rassegna stampa che seguirà in replica anche sulle nostre frequenze, vi ricordo anche gli aggiornamenti in tempo reale sempre sul nostro sito, è tutto dalla redazione e dalla regia, vi auguriamo una buona giornata. Grazie per la visione!